La politica aquilana continua ad incendiarsi sullo stato dei lavori dei sottoservizi nel centro storico. Nei giorni scorsi ad accendere la miccia era stato il presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti, che aveva proposto di dirottare il megacantiere per il rifacimento dei sottoservizi nelle aree dove la ricostruzione è ancora indietro, per tornare poi sull'asse centrale solo successivamente, quando si avrebbe avuto la possibilità di concentrare maggiori maestranze lungo il corso. L'appalto, spiegava ancora Benedetti, andava fatto con la somma urgenza, al massimo nel 2010 e doveva farlo la protezione civile o il provveditorato alle opere pubbliche. Era un appalto da 80 milioni di euro che non poteva fare la Gran Sasso Acqua S.p.A. o di Il Comune. Al momento, insomma, un vero fallimento. Aveva tuonato il presidente del Consiglio Comunale, lasciando poi intendere di dubitare anche della presenza in origine di un cronoprogramma dei lavori. Questa mattina abbiamo raggiunto ai nostri microfoni uno dei diretti interessati alla Querel, Pietro Di Stefano, l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, che sulla questione sottoservizi e sul cronoprogramma ha spiegato. È bene che si raffreddino un po' gli animi qui perché quella è un'opera importante, indispensabile, che l'abbiamo perseguita sin dal primo momento, quando il decreto 24 del commissario segnava 27 milioni, semplicemente per rifare le reti, quindi per rifare i danni. In quel momento diciamo, beh no, facciamo una città del futuro e cerchiamo di fare un'opera per la quale non si debba sempre reintervenire ogni volta che c'è un allaccio a rompere le pavimentazioni, anche perché la pavimentazione futura sarà di altissima qualità, quella della città dell'Aquila. C'era una tabella di marcia e soprattutto è stata rispettata e quali potrebbero essere i tempi da ora in avanti? No, la tabella di marcia c'era, c'è, c'è ancora un programma, lo ha l'Agranzasso Acqua e a volte è stato rispettato, a volte ha sforato perché si sono create degli imprevisti, da quello che so io, con i ritrovamenti nel sottosuolo dovuti a reperti, come dire, storici e per questo c'è bisogno dell'autorizzazione della sovrintendenza che fa ovviamente il suo lavoro e questo ovviamente, finché non arriva l'autorizzazione, il candiere resta fermo in slitta in avanti. Se la senti di dare una tempistica, visto che comunque i sottoservizi sono essenziali per una città? La tempistica credo che la debba dare la stazione appaltante a cui io chiedo continuamente, mi dovete aggiornare sui tempi, oggi non lo so. Riorganizzazione dei reparti dell'ospedale e la sanità, argomenti caldi in Consiglio Comunale, no alle scelte sui territori calate dall'alto, così la pensa anche il sindaco Massimo Cialente, riferendosi alle scelte della giunta regionale. Il discorso è che non sono i criteri con i quali si sta facendo questa cosa, mi sono sentito anche con i colleghi sindaci delle altre città e adesso aspettiamo di sapere. Io definisco quello che è stato fatto un divertissement, a meno che la posizione della giunta regionale dovesse essere che questa cosa la decido i sindacati, non so se i confederali o quelli medici e i sindaci poi vengono avvisati successivamente. A questo punto non sarebbe un divertissement, oppure vorrebbe dire che anche noi dobbiamo cominciare un divertissement. Io raccomando di avere il metodo della politica, non esiste nessuno che a monte può sciogliere dei nodi politici così delicati, perché quando si siede in certi posti bisogna saper fare la politica. Tra i tanti argomenti anche la nomina del manager dell'ASL che divide la politica e spacca il Partito Democratico. Il più duro, il capogruppo di Forza Italia Guido Liris, che più volte ha invitato il sindaco Massimo Cialente alle dimissioni su questo argomento. Altro tema che scotta, quello dei sottoservizi, non sono un optional, rituona Cialente. Senta, il problema dei sottoservizi non è un optional, per cui uno dice, sai che, muori facciamo fra dieci anni, tu devi fare la pavimentazione, devi fare il bagno a casa, dice voglio cambiare i maiali, che dice no, guarda abbiamo i bambini piccoli, le maiali che li cambiamo dopo. Se è rotto l'impianto del bagno, lo devi cambiare per forza, se no il bagno non lo usi più. Qui bisogna sapere che noi perdiamo l'acqua in quantità industriali, c'è il rischio di allagamenti e le fogne sono rotte, se dentro i cittadini, negoziando e così via, correremo il rischio di creare una bomba ecologica. Non capire questo, è chiaro che dire questo non va bene, salviamo i reparti ospedali, facciamo questo, vogliamo la squadra in serie A, eccetera, eccetera, è facile, purtroppo bisogna organizzare, allora capire che c'è un ritardo dovuto al problema con la sovintendenza se interviene su questo o non su altro. Forse non va molto bene la comunicazione che in questo momento, la ditta che sta facendo i lavori, che doveva fare i cittadini, non va bene, a questo punto ce la facciamo noi del Comune con la Gran Sasso Acqua. Ultimo passaggio oggi in Consiglio Comunale per la modifica del regolamento sulla partecipazione che ha di fatto bloccato l'iter del referendum che propone la ridefinizione dei confini del Parco Gran Sasso Laga e dei sicchi, siti di interesse comunitario delle ZPS, le zone di protezione speciale che sostengono i referendari impediscono interventi infrastrutturali nelle aree degli impianti scistici di campo imperatore. È accaduto però che non può esserci per questioni di incompatibilità un magistrato nel Comitato dei Garanti a cui spetta giudicare la legittimità del referendum come previsto dal regolamento. E così il Presidente di Tribunale sarà sostituito dal titolare dell'Avvocatura regionale dello Stato che si aggiunge agli altri due componenti del Comitato, il difensore civico regionale e il segretario generale del Comune. Toccherà loro nelle prossime settimane dare il via libera o meno ai quesiti referendari sottoposti. Ci sono altre modifiche che rendono un po' più chiaro questo regolamento. La nostra che interessa proprio a noi ai referendari è quella del Comitato dei Garanti che viene sostituito un rappresentante del Tribunale da un rappresentante credo dell'Avvocatura, dell'Avvocato insomma, del Collegio degli Avvocati mi sembra. E a quel punto siete ottimisti? Sì sì, noi guarda un plauso veramente agli uffici che hanno fatto veramente presto a modificare un regolamento abbastanza difficile da modificare. È già arrivato in consiglio, quando passerà questa modifica poi si ricomincerà l'iter con la nomina del Comitato dei Garanti, con la richiesta dei referendari di presentare dei quesiti, quindi io credo nel giro di un paio di mesi si comincerà a raccogliere le firme ad aprile credo. La Regione Toscana a dicembre ha cancellato anche in retroattivamente l'assegno vitalizio della Regione agli ex consiglieri che percepiscono anche l'assegno da ex parlamentare. Una riforma costituzionale prevede di parificare gli stipendi dei consiglieri regionali a quello dei sindaci capoluogo. In Abruzzo, sull'argomento del taglio dei costi della politica c'è solo una proposta del Movimento 5 Stelle che però rimane bloccata in commissione. Sulle tempistiche l'intenzione della Regione in merito ad un argomento che è molto sentito dai cittadini, il punto del Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio che conferma i doppi vitalizi sono una rendita da eliminare, giusto anche rivedere i compensi dei consiglieri, ma è inutile mettere il carro davanti ai buoi, occorre attendere la riforma costituzionale e una norma comune a tutte le Regioni. C'è un impegno da parte dei Presidenti dei Consigli regionali che stanno insieme di nuovo condividendo per avere una linea comune in modo tale da fare come è accaduto nel passato che tutti insieme nel 2012 abolirono i vitalizi in Italia, che tutti insieme nel 2012 abbassarono i soldi, le competenze ai gruppi consigliari ridotti oggi a 5.000 euro annuo, quindi un buon lavoro fatto a loro, un buon lavoro sicuramente si farà per quanto riguarda l'instituzione dei costi della politica. Per non commettere errori e per fare un lavoro adesso con qualche mese a distanza di qualche mese che possa essere utile soprattutto al funzionamento dell'instituzione regione ma che possa dare finalmente soddisfazione e chiarezza a ciò che vuol dire fare consigliere regionale e a ciò che deve essere la competenza dell'indennità giusta per chi fa questa attività che alla fine ha un'attività anche gravosa. Certo, assolutamente sì. Lei è favorevole all'abolizione o diminuzione del doppio vitalizio per chi prende vitalizio da ex consigliere regionale, ex parlamentare? Beh, io avendo votato la cancellazione dei vitalizi è normale che le doppie percezioni, le rendite vanno eliminate in Italia, i costi delle rendite devono essere eliminati, ciò che deve essere garantito infine sono i costi per mantenere la nostra democrazia in una maniera più contenuta, in una maniera più equa ma sicuramente le rendite non fanno parte del nostro tempo, sono cose che devono appartenere al passato. In Casa L'Aquila a tenere banco è ancora la questione sulla vendita di quote del club. La situazione attuale è questa, i dirigenti aquilani hanno fatto una proposta di vendita del 12,5% ad un gruppo di imprenditori, tra cui dovrebbe esserci un esponente dell'azienda Orafa Toscana Graziella Group, che però non sembra assolutamente far parte della trattativa, come confermato qualche giorno fa dal presidente Gianni Gori. Dunque si tratterebbe di imprenditori che avrebbero solo inizialmente fatto presagire il coinvolgimento della prestigiosa ditta Orafa Toscana nella trattativa, ma che in realtà stanno agendo per conto di un'eventuale nuova società imprenditoriale. Il club Rossoblu in ogni modo ha proposto a questi imprenditori, tra cui ricordiamo c'è l'ex vicepresidente del Martina Franca Enrico Folgori, 100.000 euro per la vendita del 12,5% delle quote, con la possibilità di incrementare la percentuale nel corso dei prossimi mesi, dopo aver eventualmente collaudato il nuovo assetto societario. Al momento però non c'è stata alcuna risposta e l'Aquila sta provvedendo autonomamente alla raccolta del denaro per rispettare tutte le scadenze del 16 febbraio. Certo, le interferenze societarie non aiutano a mantenere sereno l'ambiente già scosso dalla penalizzazione in classifica e dalla difficile risalita per la salvezza. Intanto sul fronte squadra continua la marcia di avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro la capovista Spal. Nel corso della partitella in famiglia, giocata ieri mattina sul campo di Acquasante, il terzino siciliano Dennis Di Mercurio si è aggregato per la prima volta al gruppo, disputando una ventina di minuti. Dopo la lesione di primo grado, rimediata alla gamba a inizio gennaio, per l'ex Palermo sabato potrebbe esserci la prima convocazione di Perrone. Intanto, quasi certamente nel 3-5-2 di partenza, sull'out di sinistra contro la Spal, giocherà ancora una volta l'ex Lecce Giacomo Ligorio, che non ha paura della prima della classe. No, paura no. Naturalmente c'è grande rispetto per questa squadra e per questa corazzata. Reduci dalla partita del girone d'andata, sicuramente sappiamo di poter fare bene. Ricordiamo la partita dell'andata che non meritavamo la sconfitta, nonostante abbiamo perso 2-1. Ora speriamo di rifare quella prestazione e di riportare punti in classifica. Grazie a tutti.